non stavo facendo niente quel giorno guardavo il mio piede battere ritmicamente il pavimento un venticello caldo entrava a raffiche della finestra del mio studio e la fuligine proveniente dalle caldaie del mansion house hotel dall'altro lato del vicolo ruotava sul cristallo della mia scrivania come polline nel deserto pensavo all'opportunità di andare a colazione quando katie horn entrò era bionda alta e piuttosto sciupata con una luce triste negli occhi una volta aveva lavorato nella polizia ma aveva perso il posto dopo aver sposato un imbriglioncello da strapazzo johnny horn per condurlo sulla retta via al primo tentativo aveva fallito e ora attendeva che lui uscisse di prigione per riprovarci intanto vendeva sigare al mansion house ed osservava gli avventori fra la fumosa nebbia argente una volta prestò 10 dollari a uno che aveva bisogno di allontanarsi dalla città era un tipo così katie si sedette tolse dalla sua grande borsa di pelle lucida un pacchetto di sigarette ne accese una usando l'accendino che si trovava sulla mia scrivania e misi una boccata di fumo e subito arricciò il naso mai sentito parlare delle perle linder chiese perbacco questo tessuto blu è splendido a giudicare dei vestiti che indossi devi avere un bel po di denaro in banca no risposi no a tutte e due le domande non so nulla delle perle e non ho l'ombra di un quattrino allora 25 biglietti da mille ti farebbero comodo sicuro accesi una delle sue sigarette lei si alzò e chiuse la finestra e disse all'albergo mentre lavoro sento solo questo odore ne ho abbastanza si sedette di nuovo e proseguì è successo 19 anni fa quel tale se n'è stato al fresco a liverworth per 15 anni ne è fuori da quattro ormai un grosso commerciante di legname del nord un certo soul linder le compro per sua moglie le perle voglio dire ne compro due costano 200.000 dissi ci sarà voluto un autocarro per spostarle vedo che non ti intendi di perle replicò katie horn non è questione di misura ad ogni modo oggi il loro valore è salito ancora e ci sono sempre i 25.000 promessi dall'assicurazione ci sono arrivato dissi qualcuno le ha fatte sparire cominci a ragionare era ora katie lasciò cadere la sigaretta ancora accesa nel portacenere le donne lo fanno spesso la presi su io ecco perché il tipo se n'è stato in prigione ma non sono riusciti a provare che le avesse prese le perle si era nascosto in un vagone postale e giunto nel wyoming aveva ucciso l'impiegato si era impadronito di tutta la posta raccomandata ed era sparito arrivò fino al non so dove poi lo catturarono ma solo lui presero la refurtiva invece era scomparsa così la sentenza è stata l'ergastolo se la storia va per le lunghe ci conviene bere qualcosa non bevo mai prima del tramonto così non si combinano porcherie un eschimese però sì dissi almeno in estate mi guardò tirar fuori la mia bottiglietta e proseguì si chiamava saip wally saip fece ogni cosa per conto suo e non si è mai lasciato scappare detto nulla sulla refurtiva assolutamente nulla dopo 15 lunghi anni gli hanno offerto la grazia a patto che parlasse ma è stato inutile dove teneva le perle chiesi nel cappello e stami a sentire tu non è il momento adatto per fare lo spiritoso ho trovato una via per arrivarci alle perle stetti zitto e la guardai con aria solenne diceva di non essere mai stato in possesso delle perle e in un certo senso la polizia deve avergli creduto visto che poi è stato graziato eppure prima le perle erano nel vagone tra le raccomandate poi nessuno le vide più avevo la gola secca ora continuai a tacere e aspettai che proseguisse una volta in carcere proprio una volta in tutti quegli anni wally saip si è scolato una latta di biacca e alcolica e si è preso una sbornia che l'ha steso il suo compagno di cella era un ometto di nome piler mardo stava scontando 27 mesi di carcere per truffa saip gli ha confidato di aver sepolto le perle in un luogo dell'aidau mi protesi un poco in avanti comincia a interessarti vero disse lei senti questa piler mardo sta in casa mia è cocainomane e chiacchiera mentre dorme cristo dissi pensare che credevo di aver già in tasca il premio dell'assicurazione mi guardò freddamente poi la sua faccia mutò di espressione lo so disse in tono rassegnato lo so che sembra una pazzia sono passati tanti anni e già parecchia gente si occupata di questo caso agenti dell'assicurazione impiegati postali e poliziotti privati e mai nessuno ha scoperto qualcosa ed ora questo piler mardo ma è un simpatico ometto ed io non so perché gli credo sa dove saip si nasconde e ha detto tutto questo mentre dormiva chiesi no certo ma tu mi conosci e chi ha lavorato nella polizia alle orecchie lunghe per fortuna sì non sono stata molto discreta ma ho indovinato subito con chi avevo a che fare mi dispiaceva che facesse tanto uso di droga e il mio solo inquilino ora potevo accostarmi alla sua porta e sentirlo chiacchierare da solo così sono venuto a sapere qualcosa lui poi mi ha confidato il resto gli serve aiuto mi chinai di nuovo verso di lei dov'è saip katy horn sorrise maliziosamente scosse il capo non vuole dirlo e nemmeno il nuovo nome che saip ha adottato vuole dire ma deve trovarsi nel nord dalle parti di olimpia a washington piler lo ha visto e si è informato su di lui dice che saip però non si è accorto di nulla e come mai piler si trova qui ora chiesi questo è il posto in cui si trovava quando fu condannato e gli ex galeotti sai bene tornano sempre a dar loro occhiata commemorativa ma non ha amici da queste parti accesi un'altra sigaretta e mi versai da bere saip è uscito di prigione quattro anni fa se non sbaglio piler è stato dentro solo 17 mesi cosa ha fatto una volta uscito katy spalancò gli occhi e mi guardò con aria compassionevole credi forse che la prigione di leadworth fosse l'unica data per lui va bene va bene ma vorrà parlare con me dissi sono sicuro che cerca un intermediario per trattare con la compagnia assicurativa nel caso che le perle saltino fuori e che saip gliele affidi e così katy horn sospirò profondamente sì ti parlerà ma ha paura è terrorizzato da qualcosa è meglio che tu vada ora da lui di sera non è mai molto lucido ci vado tirò fuori una chiave dalla borsetta e scrisse l'indirizzo sul mio taccuino si alzò lentamente in piedi ci sono due appartamenti separati nella casa con una porta comunicante però la chiave è dalla mia parte puoi servirtene nel caso che lui non venga ad aprirti sì certo dissi il fumo della mia sigaretta salì lentamente verso il soffitto la guardai lei si stava dirigendo verso la porta ma di colpo si fermò e tornò sui suoi passi teneva gli occhi abbassati certo io non sono molto utile in questa faccenda anzi non lo sono affatto disse però se potessi guadagnare uno o due bigliettoni sai per johnny quando uscirà così potresti mantenerlo sulla retta via dissi ma è un sogno katy soltanto un sogno ma se per caso non lo fosse fa pure conto di averne tre di bigliettoni tratteneva il respiro guardandomi fissamente sembrava sul punto di piangere andò verso la porta ma di nuovo tornò indietro c'è un'altra cosa disse si tratta di quel tipo saip ha fatto 15 anni di prigione ha scontato la sua colpa duramente se ci pensi non ti pare di essere meschino scossi il capo ha rubato e ammazzato un uomo cosa fa ora per vivere sua moglie ha soldi rispose katy saip passa il tempo a divertirsi con i pesci pesci protestai all'inferno saip e i suoi pesci katy horn usci per davvero l'ultima volta che mi ero trovato dalle parti di gray lake era stato quando aveva aiutato bernie hobbys ad ammazzare quell'accidente di gangster poke andrew ma questo era successo sulla collina in un luogo abbastanza lontano dal lago la casa di katy invece si trovava più in basso su un ripiano formato da una curva della strada intorno alla collina sorgeva isolata su un muro di sostegno screpolato e dietro aveva squalli di lotti di terreno privi di costruzioni un tempo doveva essere stata nettamente divisa in due perché aveva due porte d'ingresso con rispettivi scalini su una delle due porte stava una targhetta fissata all'inferriata che proteggeva lo spioncino portava il numero 1432 parcheggiai l'automobile passai in mezzo a file di garofani e salì gli scalini ad angolo retto che conducevano la porta contrassegnata dal numero che secondo me doveva appartenere a peter mardo suonai il campanello ma nessuno mi venne ad aprire mi avvicinai all'altra porta allora ma anche lì non ebbi alcuna risposta mentre aspettavo davanti alla casa una dodge coupé grigia girò veloce la curva e feci a tempo a intravedervi un elegante ragazza in blu mi guardò un attimo non riuscì neppure a intravedere chi fosse accanto a lei nell'auto del resto non prestai troppo attenzione alla cosa non sapevo allora che era della massima importanza tirai fuori la chiave di katie e mi introdussi nella stanza di soggiorno pervasa da un acuto odore di olio di cedro faticavo a respirare mi guardai in giro tende pulite mobili uno spiraglio di sole sopra il fendaggio c'era anche una minuscola stanza da pranzo una cucina e nella parte posteriore della casa una camera che senza alcun dubbio era di katie una stanza da bagno e quindi un'altra stanza che serviva da guardaroba in questa stanza si trovava la porta che dava nell'altro appartamento aprì con la chiave mi sembrò di guardare in uno specchio l'appartamento a parte i mobili era perfettamente identico a quello appena visitato la stanza di soggiorno aveva due letti uguali ma dava l'impressione di essere disabitata mi diressi verso la parte posteriore della casa attraversai la stanza da bagno e bussoi alla porta della camera da letto corrispondenti a quella di katie nell'altro appartamento non ottenne alcuna risposta abbassai la maniglia e la porta si aprì l'ometto che giaceva sul letto era senz'altro piler mardo la prima cosa che notai furono i suoi piedi nudi erano legati all'estremità del letto con una corda che girava intorno alle caviglie nudi contrastavano stranamente con il resto del corpo che era invece completamente vestito mi chinai ad osservare gli avevano bruciato la pianta dei piedi la finestra era spalancata ma l'odore del legno arso unito al puzzo della carne bruciacchiata era ancora intenso un ferro da stiro elettrico era acceso sul tavolo mi avvicinai e lo spensi tornai nella cucina di katie nel frigorifero era una bottiglia di whisky bevvi e respirai profondamente il mio sguardo spaziò sugli ampi terreni dietro la casa c'era anche uno stretto sentiero di cemento e degli scalini di legno verde che portavano sulla strada tornai nella camera di piler mardo una giacca marrone a sottili righe rosse era su una sedia con le tasche rovesciate il contenuto delle tasche era sparso sul pavimento i suoi pantaloni erano dello stesso colore della giacca ed anche le tasche dei pantaloni erano state rovesciate accanto al corpo sul letto stavano alcune chiavi pochi spiccioli un fazzoletto una scatoletta metallica molto simile a un portacipria dalla quale era stata versata polvere bianca cocaina il cadavere era a basso di statura aveva sottili capelli castani e orecchie a sventola i suoi occhi avevano un colore indefinito erano sbarrati e fissi nel vuoto le braccia aperte erano legate al letto per mezzo di una corda che girava intorno ai polsi sul corpo non vi differite di nessun genere gli unici segni visibili erano le bruciature ai piedi la violenza del grande dolore subito o un collasso cardiaco l'uno e l'altro insieme forse dovevano aver causato la morte il corpo era tiepido il bavaglio che gli chiudeva la bocca era ancora umido e caldo ripulì accuratamente tutti gli oggetti che avevo toccato e prima di lasciare la casa mi assicurai dalla finestra che non passasse nessuno erano le tre e mezzo quando arrivai alla mansion house mi chinai sopra il banco dei sigari all'angolo del vestibolo e chiesi delle camel katie mi porse il pacchetto lasciò cadere il resto nel mio taschino e mi sorrise come faceva di solito ai clienti e allora non ci hai messo molto osservò mentre guardava con la coda dell'occhio nubriaco che tentava di accendere un sigaro con un vecchio accendino è penoso quello che sto per dirti sussurrai tieniti salda si allontanò rapida e con la mano spinse lungo il banco una scatoletta di fiammiferi verso l'ubriaco quello fece per afferrarla e goffamente lasciò cadere in terra sigaro e fiammiferi li raccolse rabbiosamente e si allontanò continuando però a voltarsi indietro con aria circospetta come se temesse di venire improvvisamente assalito katie fissava il vuoto i suoi occhi erano freddi e inespressivi sono pronta dissi a voce bassa dissi piler è morto lo hanno ammazzato nel suo letto i suoi occhi ebbero un lampo vidi le sue dita posate sul piano di cristallo accanto al mio gomito contrarsi una linea bianca apparve sulla sua faccia intorno alla bocca fu tutta la sua reazione stammi a sentire le sussurrai e non interrompermi finché non avrò finito la morte è stata causata da un collasso qualcuno gli ha bruciato i piedi con un ferro da stiro no non con il tuo ho già controllato la morte deve essere stata quasi istantanea lui non può avere detto molto era ancora imbavagliato ad ogni modo se ha parlato siamo spacciati e anche saip lo è a meno che io non riesca a trovarlo prima c'è gente che non ha scrupoli in questo affare se piler però non ha parlato siamo ancora in tempo katie girò la testa e guardò in direzione della porta girevole dell'ingresso la sua faccia era pallida che cosa devo fare mormorò presi una scatola di sigari e vi lasciai cadere la chiave che mi aveva dato katie se ne impadronì con aria indifferente quando torni a casa lo trovi non sai assolutamente nulla tu non nominare mai le perle e lascia fuori anche il mio nome dalla storia quando rileveranno le sue impronte si accorgeranno che non era incensurato sicuramente penseranno che la causa della sua morte sia da ricercarsi nei suoi loschi precedenti aprì il pacchetto delle sigarette ne accesi una guardai katie per un attimo era immobile ce la farai le chiesi sarai capace di fronteggiare la situazione di qualcosa sì certo ce la farò aggrotto la fronte ho l'aspetto di una serviziatrice forse non dimenticare che hai sposato un truffatore risposi io implacabile lei avvampò avevo ottenuto quello che mi ero proposto e gridò no non è vero è solo uno sciocco nient'altro che uno sciocco anche quelli di headquarters la pensano come me ecco proprio così devi fare non si tratta della nostra morte dopo tutto ma se noi parliamo ora possiamo dire addio al premio dell'assicurazione dio cristo borbottò katie horn guardandomi con spavalda e poi il mio povero ometto bisbigliò quasi piangendo le strinsi affettuosamente il braccio le sorrisi per incoraggiarla e me ne andai la compagnia d'assicurazione aveva la sua sede nel grass building sede costituita da tre stanze piccole e disadorne ma era così importante da potersene fregare dell'aspetto dei suoi uffici e in realtà erano piuttosto squallidi il direttore si chiamava liutin era di mezza età calvo aria tranquilla le sue dita sottili giocherellavano con un sigaro immaculato stava seduto dietro un'ampia e lucida scrivania e fissava il mio mento così almeno pareva il signor calmodi ho sentito parlare di voi disse e prese il mio biglietto da visita tra le sue dita estremamente sottili che cosa desiderate presi a giocherellare con la sigaretta che tenevo in mano e dissi a voce bassa vi ricordate delle perle linder il signor liutin sorrise impercettibilmente e disse in tono distratto non posso permettermi di dimenticarle sono costate 150 mila dollari a questa compagnia a quei tempi era un semplice agente cominciai mi è venuta un'idea può darsi che non valga niente anzi è molto probabile però mi piacerebbe tentare ugualmente il premio di 25 mila dollari c'è sempre non è vero ridacchiò sono 20 mila calmodi la differenza è stata spesa allora ma state sprecando il vostro tempo il mio tempo mi appartiene a sono 20 mila allora posso aspettarmi qualche aiuto da parte vostra che genere di aiuto posso avere una lettera di presentazioni per le vostre filiali può darsi che debba uscire da questo stato e potrei aver bisogno per spiegare i miei affari negli altri stati in quale stato vorreste recarvi abbozzai un sorriso il mio interlocutore depose il sigaro su un portacenere mi ricambiò il sorriso nessuno di noi due era sincero niente lettera disse new york non approverebbe non dimenticate che siamo vincolati a determinati accordi però dietro le quinte collaboreremo con voi avrete anche 20 mila dollari se il colpo riuscirà ma è inutile tentare non ce la farete sicuramente accesi una sigaretta e mi appoggiai allo schienale della sedia soffiando il fumo verso il soffitto e perché non dovrei riuscire voi non trovaste mai le perle eppure esistevano non è forse vero e come se esistevano maledizione e se esistono ancora ci appartengono ma 200 mila dollari non se ne stanno nascosti per vent'anni per poi tornare improvvisamente alla luce lo so però mi va di tentare ugualmente scosse via la cenere dal suo sigaro e mi guardò la vostra faccia mi piace disse anche se dovete essere completamente pazzo ma la nostra è una grande organizzazione suppongo che sarete pedinato d'ora innanzi e allora o me ne accorgerò è da troppo tempo che faccio questo genere di lavoro perché mi sfugga in questo caso andrei a riferire quello che so alla polizia e me ne tornerei a casa tranquillo per quale ragione fareste una cosa di questo genere mi protesi verso di lui e risposi perché l'uomo che era a capo della faccenda è stato accoppato oggi oh oh l'utin presi a strofinarsi il naso non l'ho accoppato io misi in chiaro per un po nessuno di noi due proferì parola poi l'utin disse voi non avete bisogno di nessuna lettera non riuscireste neppure a portarla a destinazione e dopo che mi avete detto questo potete bene immaginare che non oserei neppure darvela mi alzai in piedi sorridendo e mi diressi verso la porta anche lui si alzò di scatto girò intorno alla scrivania e mi pose una delle sue mani ben curate sul braccio statemi a sentire so che siete pazzo da legare ma se per caso arrivaste a capo di qualcosa comunicatelo ai nostri uomini abbiamo molto bisogno di una buona pubblicità credete forse che a me non serva brontolai ricordate carmody si tratta di 25 mila dollari credevo mi aveste detto 20 mila no 25 mila ma siete ugualmente pazzo a tentare saip non le ha mai avute quelle perle se le avesse avute avrebbe già tentato di accordarsi con noi parecchi anni fa bene dissi avete avuto tempo a sufficienza per decidere ci stringemmo la mano e ci sorridemmo cordialmente proprio come due saggi ragazzetti che sebbene consapevoli delle loro incapacità di gabbarsi vicendevolmente pure non rinunciano al tentativo di prendersi gioco l'uno dell'altro mancava un quarto d'ora alle cinque quando tornai in ufficio bevi un paio di whisky riempì la pipa e mi sedetti a meditare con calma ad un tratto il telefono squillò una voce femminile chiese carmadi era una voce bassa fredda ed impersonale non l'avevo mai udita prima sono io risposi ti conviene andare a trovare rush madder sai chi è no menti e perché dovrei vederlo all'altro capo del filo risuonò una risata fredda e squillante poi riudì di nuovo la voce per via di un tale a cui piedi è successo qualcosa di brutto la donna riattaccò accesi un fiammifero e restai assorto a guardare la parete fino a che mi scottai le dita rush madder era un avvocato da strapazzo che abitava al corn building lo si diceva un individuo equivoco ideatore di piccole truffe costruttore di alibi falsi non avevo mai sentito dire però che si occupasse anche di cose di una certa gravità giunsi in spring street proprio nell'ora di punta quando la gente abbandona i posti di lavoro per rincasare negli uffici gli impiegati si muovevano frettolosamente fuori lunghe file di taxi sostavano accostati ai marciapiedi nonostante gli sforzi dei poliziotti che dirigevano la circolazione il traffico intenso ostruiva la strada entrai al corn building il palazzo aveva una stretta facciata dipinta di uno strano color senape la prima cosa che si scorgeva entrando era una grande vetrina con una mostra di denti finti sulle targhe erano i nomi e le professioni degli inquilini alcuni erano dentisti capaci di estrarvi un dente senza farvi sentire il minimo dolore altri invece erano in grado di insegnarvi qualsiasi professione quella del portalettere per esempio i nomi erano in genere seguiti dal numero dell'appartamento notai che alcuni numeri non erano preceduti da alcun nome rush madder stava al 619 salì su un ascensore traballante guardai con una certa ripugnanza una sputacchiera posta su una stuoia di gomma percorsi un corridoio invaso da un odore insopportabile e finalmente mi trovai davanti al 619 la porta era chiusa a chiave bussai attraverso il vetro vidi l'ombra di un uomo immediatamente la porta si aprì stridendo entrando lo vidi subito era un uomo piuttosto grasso con un flaccido mento rotondo grosse sopracciglia scure una pelle untuosa e spettacolosi baffi alla charlie chan che lo facevano parere ancora più grosso protese verso di me la mano dalle dita gialle di nicotina esclamando oh il grande segugio in persona l'occhio che tutto vede è venuto fin qui il signor carmody se non sbaglio la stanza era piuttosto spoglia il pavimento era di linoleum scuro e privo di tappeti l'arredamento era costituito da un'ampia scrivania alcune sedie due scaffali un armadio a muro e una cassaforte per niente solida all'apparenza in un angolo accanto alla porta era un lavabo accomodatevi prego disse madder sono felice di vedervi si dava da fare intorno alla scrivania quindi con la mano sistemò il vecchio cuscino sdrucido che stava sulla sedia e vi si sedette sopra siete stato gentile a venire qui a cosa debbo la vostra visita si tratta di lavoro mi misi a sedere ed accesi una sigaretta lo fissavo senza proferire parola e lui cominciò a sudare lo vedevo dai capelli per darsi un contegno afferra una penna e scrisse qualcosa su un tacquino di tanto in tanto sollevava il capo e mi lanciava un'occhiata penetrante alla fine cominciò a parlare a testa china come se non si rivolgesse a me c'è qualche possibilità disse piano a proposito di cosa senza guardarmi rispose possibilità di concludere un affaruccio noi due chi era chiesi chi era chi insisteva nel non volermi guardare quella che mi ha telefonato perché qualcuno vi ha telefonato mi avvicinai al telefono che era di foggia antiquata sollevai il ricevitore e cominciai a fare il numero della polizia headquarters me la presi molto calma e infatti ero sicuro che lui conoscesse quel numero a memoria mi fu subito accanto interruppe di scatto la comunicazione andate troppo di fretta si lamentò cosa gli volete dire a quelli risposi serafico sono loro che vogliono dirvi qualcosa sì perché voi conoscete qualcuno che a sua volta ha avuto a che fare con un poveraccio cui furono bruciacchiati i piedi ma vi sembra il modo di fare questo il colletto gli risultava troppo stretto ora tentò di allargarlo con il dito non crederete mica che me ne stia qui seduto buono buono a sentire i vostri imbrogli spero aprì un pacchetto di sigarette e se ne infilò una fra le labbra con uno strano rumore quindi agitò una mano e disse rassegnato va bene va bene ma non irritatevi smettetela di tergiversare quando parlate con me replicai veniamo al punto se avete un lavoro da offrirmi sarà sicuramente qualcosa di losco che non accetterò niente però mi impedisce di starvi a sentire mosse la testa quasi assentendo mi sembrava più tranquillo ora sapeva benissimo che stavo barando alla fine si decise a parlare sì disse arriviamo al punto siamo ragionevoli ci possiamo accordare ecco il fatto carol vi ha visto entrare in casa di piler e uscirne e la polizia non è stata ancora chiamata carol sì carol donovan è un'amica mia la stessa che vi ha telefonato andate avanti si azzittì e mi fissò sorrisi mi protesi un poco verso di lui e dissi è chiaro che vi dispiace non sapere perché sia andato da piler e perché non abbia chiamato la polizia visto che è morto un perché è facile da capire credevo che nessuno lo sapesse ci stiamo prendendo in giro l'uno con l'altro disse madder irritato bene tagliai corto parliamo delle perle se questo può facilitare le cose i suoi occhi brillarono avrebbe voluto mostrarsi stupito ma non gli riuscì la sua voce suonò bassa e fredda carol trovò quell'imbecille una notte aveva quella strana idea fissa in capo le parlò di perle di un tipo che stava in canada e molto tempo prima le aveva rubate e che ne era ancora in possesso aveva questa idea fissa non capisco perché andasse in giro a raccontarlo perché qualcuno gli bruciasse le piante dei piedi dissi le sue labbra tremerono mi accorsi che riprendeva a sudare non sono stato io o voi o carol che differenza fa quel che conta è che lo metto è morto e la polizia può accusare qualcuno di omicidio a ogni modo non avete scoperto quello che vi interessava sapere per questa ragione mi avete fatto venire qui pensate che sappia qualcosa scordatevelo se fossi a conoscenza di qualcosa non sarei certo venuto e voi pure non ne sapete niente visto che avete bisogno di me chiaro sorrise debolmente come se sorridere gli costasse dolore si agitò un poco sulla sedia aprì un capace cassetto della scrivania e ne tirò fuori una bottiglia scura dall'aspetto invitante e due bicchieri irrigati a voce bassa disse mi dividerò da carol resteremo solo noi due è troppo crudele lei carmadi ne ho viste di donne dure ma questa è peggio dell'acciaio non lo si direbbe all'aspetto vero ma l'ho mai vista io credo di sì così ha detto lei almeno la ragazza della doge assentì versò da bere e rimese la bottiglia al suo posto si alzò in piedi e mi chiese ci volete un po' d'acqua dentro ne prendo anche per me no risposi ma perché volete coinvolgermi nella faccenda ne so quanto voi o poco di più certo non quanto basta per arrivare in fondo madder mi sbirciò da dietro il bicchiere so dove trovare 50 mila dollari in cambio delle perle di leder esattamente il doppio di quanto guadagnereste voi faremmo a metà capite voi mi servite perché ho bisogno di lavorare alla luce del sole volete un po' d'acqua risposi nuovamente di no andò al lavabo fece scendere l'acqua e tornò con il bicchiere colmo a metà sorridendo si rimise a sedere alzammo i bicchieri e bevemmo a questo punto avevo già commesso quattro errori il primo era stato quello di mischiarmi nella faccenda anche se l'avevo fatto per katie il secondo era stato continuare a interessarmi della cosa anche dopo la morte di piler mardo il terzo era stato lasciare intendere a rush madder che ne ero al corrente ma il quarto errore quello di bere il whisky offertomi da madder fu senza dubbio il più madornale nell'attimo stesso in cui il liquido mi scendeva in gola mi accorsi che aveva uno strano sapore poi seguì un momento di completa lucidità in cui mi resi perfettamente conto quasi come se l'avessi visto che madder doveva aver scambiato il suo bicchiere con un altro nascosto precedentemente nell'armadio restai immobile con il bicchiere vuoto fra le dita sforzandomi di raccogliere tutte le mie forze la faccia di madder diventò all'improvviso smisuratamente grande mentre i suoi contorni si facevano sempre più vaghi ogni volta che mi guardava atteggiava le labbra un sorriso mellifluo tolsi dalla tasca dei pantaloni un fazzoletto ripiegato negligentemente madder sussultò poi si mobilizzò di nuovo certo non aveva visto il piccolo sfolaggente racchiuso nell'interno del fazzoletto mi alzai andai verso di lui ondeggiando lo colpì in pieno sulla testa boccheggiò e fece per alzarsi in piedi lo colpì di nuovo questa volta alla mascella si afflosciò e la sua mano che stringeva il bicchiere ricadde pesantemente sulla scrivania raddrizzai il bicchiere e rimasi fermo in silenzio quasi in ascolto mentre cercavo di vincere con tutte le mie forze il senso di nausea che aumentava sempre di più c'era un'altra porta oltre a quella dell'ingresso ma era chiusa a chiave barcollavo ora trascinai una sedia fino alla porta d'entrata e la deposi in modo tale da impedire che qualcuno potessi abbassare la maniglia mi appoggiai alla porta ansimando digrignavo i denti e maledicevo me stesso tirai fuori le manette e mi avvicinai a madder d'improvviso una graziosa ragazza bruna dagli occhi grigi usci fuori da un armadio e mi puntò una rivoltella calibro 32 e indossavo un abito blu molto elegante il cappello che le scendeva fin sulla fronte era simile a un piatto rovesciato ai lati si intravedevano i suoi capelli di un nero lucido gli occhi avevano il colore dell'ardesia erano occhi freddi non privi a tratti di una certa vivacità la sua faccia sebbene giovane fresca delicata aveva un'espressione dura stenditi e comincia a far la nanna kermadi non ti resta altro da fare quando mi mossi incespicando verso di lei scosse la testa la sua faccia diventava grande sempre più grande e il suo profilo sempre più vago e indefinito la pistola che impugnava aveva cambiato completamente aspetto cos'era una ciminiera uno stuzzicadenti o qualsiasi altra cosa non essere stupido kermadi disse si tratta solo di alcune ore di sonno dopo tutto un sonno che giunge proprio a proposito per noi non costringemi a sparare sta pur certo che non esiterei sì so bene che non esiteresti maledizione borbottai tra i denti certo sono una donna che sa quel che vuole come ottenerlo bene così va bene siediti d'improvviso mi sembrò che il pavimento si muovesse si innalzasse a poco a poco era come stare seduti su una zattera con il mare in tempesta le mie mani poggiavano a dita aperte sul pavimento ma quasi non lo sentivo tanto erano intorpidite tutto il mio corpo era intorpidito cercai di farle abbassare gli occhi fissandola dissi qualcosa e scoppiai a ridere convulsamente mi rispose la sua risata fredda ma la sentì a malapena e infatti ora nella mia testa rullavano i tamburi di guerra di una giungla lontana una luce ondeggiante ombre nere e uno stormire come di vento tra le cime degli alberi non volevo nessun costo lasciarmi andare eppure piano piano mi stessi sul pavimento la voce della ragazza veniva da molto lontano era una voce d'elfo forse fare a meno di me è questo che vuole non è vero lo sistemo io il ciccione mentre a poco a poco perdevo i sensi mi sembrò di udire un rumore sordo avrebbe potuto essere un colpo di pistola sperai che carola avesse sparato a madder ma purtroppo non era così la ragazza aveva soltanto voluto darmi un aiuto perché mi addormentasse più in fretta e con il mio stesso piccolo sfolaggente quando mi svegliai era già notte sentì un rumore in alto al di sopra della mia testa attraverso la finestra aperta che era di là dalla scrivania vidi una luce giallastra riflettersi sulla parete laterale dell'edificio poi di nuovo il rumore di prima e la luce si spense era solo un insegna luminosa posta sul tetto mi sollevai dal pavimento ero impacciato nei movimenti come un uomo che tenti disperatamente di uscire da un pantano vacillando raggiunsi il lavabo e mi bagnai con acqua fredda mi toccai la testa ed il dolore mi contrasse la faccia a stento raggiunsi la porta in cerca dell'interruttore della luce il disordine che regnava nella stanza era spaventoso intorno alla scrivania erano sparpagliati foglie di carta matite spuntate buste una bottiglia di whisky vuota e mozzicone di sigarette e dappertutto cenere il contenuto dei cassetti che erano stati vuotati frettolosamente non mi importava vedere di cosa si trattasse usci fuori dall'ufficio e scesi con ascensore traballante in un bar bevi un brandy quindi recuperai la mia automobile mi diressi verso casa qui mi cambiai e riempì di indumenti una valigia stavo bevendo un po di whisky quando il telefono squillò erano circa le nove e mezzo era katie horn bene non sei ancora partito speravo proprio che non lo fossi sei sola io chiesi e quasi non riconobbi la mia voce ora sì ma la casa è stata piena di poliziotti per ore e ore in complesso sono stati abbastanza gentili pensano che il movente si debba ricercare in vecchi rancori personali e la linea è probabilmente sorvegliata ora borbottai dove credevi che stessi andando beh tu lo sai ho parlato con la tua ragazza una ragazza piccola bruna dall'aria fredda si chiama carol donovan mi ha mostrato il tuo biglietto da visita perché c'è qualcosa che non va dissi solo non ho ragazze io scommetto che per caso naturalmente senza pensarci ti è scappato detto il nome di una città del nord mi sbaglio forse no non ti sbagli ammise katie debolmente salì sul primo aereo che quella notte partiva per il nord avrebbe potuto essere un viaggio piacevole se non avessi avuto quel dolore lancinante alla testa e quel desiderio intenso di acqua ghiacciata lo snow kelmy hotel di olimpia dava su capital way che si trovava di fronte alla zona del parco cittadino uscì dalla porta del bar e scesi per la collina a cui piedi giungeva l'ultimo solitario tratto di puget sound che si disperdeva tra i vecchi moli abbandonati il paesaggio era completato da catasta di tronchi legati tra le quali si muovevano uomini anziani altri erano seduti su delle casse fumavano tranquillamente la pipa un insegna portava scritto legna da ardere consegna gratuita a domicilio più in là potevo scorgere una rupe le sagome degli immensi pini del nord contro lo sfondo del cielo grigio azzurro due di quei vecchi che avevo notato sedevano su due casse a due metri di distanza l'uno dall'altro ignorandosi del tutto mi avvicinai a uno dei due indossava calzoni di fustagno e uno sbiadito impermeabile rosso e nero con una mano stringevo una corta pipa nera con le dita sudice dell'altra lentamente con aria quasi estatica giocherellava con un lungo pelo riccio che gli usciva dal naso rovesciai anch'io una cassa e mi sedetti riempì la pipa e incominciai a fumare additai l'acqua con una mano e dissi uno non penserebbe mai che va a finire nel pacifico l'uomo mi guardò calma tranquilla acqua un po' come questa città mi piacciono le città riposanti lui seguitava a guardarmi scommetto che un uomo che vive qui non solo conosce tutti gli abitanti della città ma anche quelli dei dintorni l'uomo finalmente parlò e quanto scommettete tirai fuori un dollaro d'argento da quelle parti ce n'era ancora qualcuno in circolazione e il vecchio lo guardò quindi assentì con la testa e strappò bruscamente il lungo pelo che gli usciva dal naso guardandolo attentamente contro luce perderete affermò posai il dollaro sul mio ginocchio bene in vista poi chiesi non conoscete nessuno che allevi pesci rossi il vecchio fissava il dollaro sul mio ginocchio l'altro vecchio che sedeva vicino portava una vecchia tuta e scarpe senza lacci fissava pure lui il dollaro nello stesso attimo i due sputarono per terra il primo vecchio girò la testa e il gridò a voce altissima non conosci qualcuno che alleva pesci rossi l'altro vecchio balzò in piedi e afferrò una grossa ascia poi prese un ceppo e con un unico colpo dell'ascia lo spezzò in due parti uguali guardò il primo vecchio con aria trionfante urlò io non so nulla il primo vecchio borbottò parole incomprensibili si alzò lentamente e si diresse verso una barracca costruita con vecchie assi di varia lunghezza entrò dentro e sbatté la porta dietro di sé il secondo vecchio gettò via con stizza la sua ascia e sputò in direzione della porta chiusa poi sparì tra le cataste di tronchi legati la porta della baracca si spalancò e il vecchio con l'impermeabile mise fuori la testa sono tutti granchi di fogna e sbatté la porta di nuovo mi rimisi il dollaro in tasca e risali per la collina pensai che sarebbe stato troppo lungo imparare il loro strano linguaggio capital way correva verso nord e verso sud un tram verde cupo portava fino a un luogo chiamato tomb water in lontananza potevo scorgere edifici amministrativi sul lato più a nord della via vidi due hotel e qualche emporio poi la strada si biforcava andando a destra si raggiungevano tacoma e seattle a sinistra invece si attraversava un ponte per poi arrivare fino all'olimpic peninsula superata la biforcazione la strada aveva un aspetto più povero e poco pulito anche l'asfalto era consumato notai un ristorante cinese accanto ad un cinema molto modesto completamente rivestito di legno poco lontano un banco di pegni un insegna di tabaccheria sporgeva al di sopra del marciapiede piuttosto sporco portava la scritta smoke shop è più in basso a caratteri molto piccoli come se dovesse passare inosservato lessi biliardo entrai e scorsi uno scaffale pieno di riviste dalle copertine vistose e una vetrinetta in cui erano esposti sigari e in più mosche il lungo banco di legno era situato a sinistra accanto stava un tavolo da biliardo ed alcuni distributori automatici intorno ai quali giocherellavano tre ragazzini un uomo alto e magro con un lungo naso e un mento sfuggente giocava a biliardo da solo teneva in bocca un sigaro spento mi sedetti su di uno sgabbello e l'uomo che stava dietro il banco mi si avvicinò subito dopo essersi asciugato le mani in un grembiule di grossa tela grigia era calvo con uno sguardo duro e freddo un dente d'oro gli luccicava in bocca ordinai whisky e chiesi conoscete qualcuno che alleva pesci mi rispose negativamente annusai il whisky e arricciai il naso mi mostro allora una grossa bottiglia che portava scritto sull'etichetta whisky di segala garantito e imbottigliato da più di quattro mesi vedo vedo risposi ci versai dentro un po di acqua e bevi aveva un sapore disgustoso quasi come quello di una coltura di batteri del colera mesi sul banco un quarto di dollaro vidi di nuovo il luccichio del dente d'oro l'uomo appoggiò al banco le sue grosse mani e si protese un poco verso di me di che parlavate prima mi chiese in tono quasi gentile sono appena arrivato risposi e cerco pesci rossi da mettere sul davanzale della finestra capito pesci rossi il barista disse piano ho l'aspetto di uno che conosce gente che alleva pesci la sua faccia era pallida l'uomo dal lungo naso che giocava a biliardo ripose la stecca nella rastrelliera si avvicinò a noi e gettò il denaro sul banco dammi qualcosa da bere prima di fartela sotto intimò al barista quello fece una gran fatica a staccarsi dal banco io guardai bene per vedere se le sue dita avessero lasciato i segni nel legno tanto ci aveva premuto sopra prese una coca cola e dopo averla stappata la pose sul banco ispirò profondamente fece uscire l'aria dal naso e si diresse borbottando verso una porta con la scritta toilette l'uomo dal naso lungo sollevò la sua coca cola e guardò nello specchio annerito che stava dietro al bar storse leggermente la bocca e chiese con voce fiocca come sta piler premetti l'indice contro il pollice e mi tocca il naso annusai l'aria e scossi la testa tristemente fatto centro vero sì dissi ma non ho ben afferrato il vostro nome chiamami sunset vado sempre verso occidente e piler spero sia stato discreto sì risposi il tuo nome dodge willis di el paso hai preso una camera sì all'hotel posò sul banco il bicchiere vuoto muoviamoci disse andammo nella mia camera dove riempì un bicchiere di whisky e uno di soda una volta sedutici cominciamo a scrutarci a vicenda gli occhi di sunset erano molto vicini tra di loro e del tutto inespressivi mi guardava a intervalli molto attentamente fu un esame molto minuzioso il suo io sorseggiavo il mio whisky attendevo ad un tratto chiese con la sua strana voce come mai non è venuto piler per la stessa ragione per la quale non era stato qui quando c'era che vuol dire pensaci da solo risposi annui come se credesse che io fossi in attesa di una risposta poi chiese quanto offrono 25 mila dollari stupidaggini il suo tono era rude quasi scortese mi appoggiai allo schienale della sedia e accesi una sigaretta un venticello che entrava dalla finestra aperta disperdeva le nuvolette di fumo che uscivano dalla mia bocca stami a sentire disse sunset in tono lamentoso non ti ho conosciuto all'ultima riunione sportiva domenicale non so chi tu sia perché vorresti fidarti di me tu conosci la parola d'ordine non è forse vero a questo punto era necessario giocare d'azzardo gli risposi sì certo pesce rosso è il lascia passare lo smoke shop è il luogo d'incontro il fatto che non reagisse mi fece capire che avevo colpito nel segno era una di quelle situazioni che spesso ci capita di sognare ma che non hanno felice conclusione neppure nei sogni e qual è la prossima pesca chiese sunset succhiando un pezzo di ghiaccio che aveva tirato fuori dal bicchiere io risi non esageriamo sunset è un bene che tu sia così cauto ma in questo modo non la finiremo mai giochiamo a carte scoperte dov'è il vecchio sunset strinse le labbra le inumidì passandoci sopra la lingua le strinse di nuovo posò il suo bicchiere con lentezza la mano destra gli pendeva inerte lungo il fianco sapevo di aver commesso un errore piler senza alcun dubbio conosceva esattamente il luogo in cui saip si trovava perciò anch'io avrei dovuto esserne al corrente nulla però nella voce di sunset mi fece intendere che avevo sbagliato disse rabbiosamente vuoi che io metta le carte in tavola perché tu possa studiarle bene e questo che vuoi non è vero ma io non ci casco vediamo come prendi questa borbottai piler è morto gli tremò un sopracciglio ed un angolo della bocca i suoi occhi divennero ancora più inespressivi se ciò era possibile quando parlò la sua voce era un po' rauca simile al rumore di un'unghia che raspa il cuoio com'è successo concorrenza voi due ignoravate di avere concorrenti la canna della pistola mandò un bagliore metallico non capì da dove l'avesse tirata fuori la bocca dell'arma era nera rotonda e vuota sembrava che mi fissasse non devi fare il furbo con me disse sunset freddamente non ammetto che i truffatori si prendano gioco di me piegai le braccia in modo che la mia mano destra fosse bene in vista non mi prendo gioco di nessuno stammi a sentire piler ha trovato una ragazza che lo ha fatto chiacchierare solo fino a un certo punto però lui non le ha detto dove si trovi saip così la ragazza e un suo amico sono andati a casa di piler e con un ferro da stirro rovente gli hanno bruciato i piedi è morto per collasso sunset non sembrava impressionato e disse ci sono ancora molte cose che vorrei sapere anch'io brontolai fingendo all'improvviso di arrabbiarmi sì tu conosci piler ma poi non hai detto ancora nulla di interessante maledizione sunset giocherellava distrattamente con il a pensosa mormorò con la sua voce in colore saip è a westport ha le perle come posso saperlo raddrizzò la pistola e l'appoggiò alla coscia l'arma non era puntata verso di me ora dove sarebbero i concorrenti di cui parlavi spero di averli sistemati dissi ma non ne sono sicuro posso mettere giù le mani e bere qualcosa sì ma continuo a parlare come hai cominciato ad occuparti della faccenda piler alloggiava presso la moglie di un amico mio attualmente al fresco una ragazza in gamba una di cui ci si può fidare piler le parlò della cosa e lei me la riferì dopo dopo che piler è morto in quanti siete a spartirvi la vostra metà l'altra metà è mia è stabilito bevi e allontanai il bicchiere vuoto tu ha un corno la pistola si sollevò leggermente quindi ricadde quanti tutti insieme replicò tre ora che piler è morto sempre che ci sia possibile eliminare la concorrenza e brucia piedi non preoccuparti di quelli che tipi sono l'uomo si chiama rush madder una zecca garbugli del sud grasso 50 anni grossi baffi piegati all'ingiù capelli neri radi nel mezzo della testa altezza un metro e 75 peso 90 non molto fegato la ragazza è carol donovan capelli neri lunghi occhi grigi graziosa lineamenti piccoli età dai 25 e 28 altezza un metro e 60 peso 60 chili l'ultima volta che l'ho vista indossava un abito blu e spietata il ferro rovente nella prova sunset assentì con aria indifferente mise via la pistola la raddolciremo se le verrà in testa di cacciare il naso nelle nostre faccende disse andiamo a respirare per un po l'area di westport può darsi che tu diventi un asso nella pesca dei pesci rossi dicono che saip ne abbia il pallino io lavorerò all'ombra il carcere l'ha reso troppo giudizioso per trattare con me gli ricorderei subito le sbarre splendido sbottai allegramente anch'io sono un vecchio appassionato di pesci rossi sunset prese la bottiglia versò due dita di whisky e la remise sul tavolo si alzò si riadrezzò il colletto e protese il più possibile in avanti la mandibola del mento sfuggente attento agli errori però non bisogna fargli pressioni la cosa non deve finire in una fuga del fitto bosco con qualche braccio rotto è meglio afferrare la roba e via certo assenti tanto rappresentiamo la compagnia di assicurazione sunset si tirò giù la maglia e si grattò il dietro del collo smilzo mi misi il cappello sistemai il whisky nella valigia che era vicina alla mia sedia e andai a chiudere la finestra ci avviamo per uscire mentre posavo la mano sulla maniglia udì un rumore dietro la porta feci cenno a sunset di appiattirsi contro la parete restai un attimo immobile osservando la porta poi la spalancai due pistole una 32 e una grossa switten wesson erano puntate contro di me quasi alla medesima altezza i due non potevano passare insieme dalla porta quindi la ragazza entrò prima ciao pezzo grosso disse sarcastica indietreggiai lentamente fin all'interno della camera i miei due visitatori mi stavano accanto uno per parte e inciampai nella valigia e caddi riverso sul pavimento gemendo mi girai su un fianco sunset esclamò sono proprio quelli maledizione alle sue parole i due distolsero gli occhi da me e feci in tempo a tirar fuori la pistola continuai a lamentarmi non si sentiva alcun rumore nella stanza nessuna pistola cadde sul pavimento la porta era ancora spalancata dietro si intravedeva sunset appiattito contro la parete la ragazza si bilò tra i denti rush tieni la pistola puntata contro quell'impostore che sta sul pavimento e chiudi la porta lo smilzo non può sparare qui nessuno può poi non sussurro che io udì a malappena soggiunse falla sbattere rush madder attraversò la stanza camminando all'indietro a piccoli passi ondeggianti e tenendo sempre la pistola puntata contro di me voltava la schiena a sunset il pensiero lo terrorizzava a tal punto da fargli roteare gli occhi avrei potuto accopparlo abbastanza facilmente ma non era questo che volevo sunset era fermo con le gambe aperte con la lingua fuori una specie di sorriso increspava i suoi occhi spenti fissava la ragazza la ragazza lo guardava a sua volta e anche le loro armi sembravano scrutarsi a vicenda rush madder raggiunse la porta la spinse con forza sapevo cosa sarebbe successo la ragazza avrebbe sparato nel momento stesso in cui la porta si sarebbe chiusa con violenza in questo modo nessuno avrebbe sentito l'esplosione mi mossi piano ed afferrai strettamente la caviglia di carol donovan la porta sbatté la pallottola si conficcò nel soffitto la ragazza si girò e mi sferrò un calcio sunset esclamò nel suo strano espressivo linguaggio se è questo che volete questo avrete andiamo fece scattare il cane della pistola qualcosa nella sua voce calmò carol donovan si rilassò lasciò ricadere la sua automatica e si scostò da me dopo avermi lanciato uno sguardo di odio madder girò la chiave nella serratura e si appoggiò pesantemente alla porta respirando con affanno il cappello gli si era inclinato sopra un orecchio sotto la tesa si intravedevano le estremità di due strisce di cerotto nessuno si era mosso mentre questi pensieri mi attraversavano la mente fuori non si sentiva nessuno camminare nell'atrio nessun segno di allarme mi misi sulle ginocchia riposi la pistola e quindi mi rizzai in piedi scrutai dalla finestra si poteva stare tranquilli nessuno giù in strada guardava le finestre dello snorkel mi hotel mi sedetti sull'ampio davanzale di antica foggia girai lo sguardo vagamente imbarazzato come se qualcuno avesse detto una parolaccia la ragazza si rivolse a me questo verme è tuo socio non risposi lei arrossì un poco i suoi occhi fiammeggiavano madder fece un gesto con la mano e le disse nervosamente stammi a sentire carol stammi a sentire bene chiudi il becco e non fiatare più fu la replica non è questo il tono da usare con me sì certo madder assentì con aria rassegnata sunset sollevò la testa pigramente per guardare le ragazze già prima l'aveva osservata la mano che teneva la pistola era appoggiata al fianco lui pareva completamente calmo poiché avevo visto prima con che rapidità sapesse tirar fuori la pistola sperai che la ragazza non si lasciasse ingannare dalla sua apparente tranquillità lui disse lentamente sappiamo quel che volete qual è la vostra offerta vi avrei già tolto di mezzo senza neppure starvi a sentire se non avessi paura di mettermi nei guai la ragazza replicò ce n'è abbastanza per quattro persone e madder confermò chinando la sua grossa testa riuscì quasi ad abbozzare un sorriso sunset mi lanciò un'occhiata e annui quattro persone lui sospirò andiamo a discutere a casa mia non mi piace qui dobbiamo sembrarvi molto ingenui disse la ragazza con aria sdegnata ingenui assassini disse sunset strascicando le parole ne ho già incontrati molti in vita mia per questo motivo ora discuteremo questo non è un gioco da risolversi a colpi di pistola carol donovan si sfilò dal braccio sinistro la borsa di pelle scamosciata e vi ficcò dentro la pistola sorrise era graziosa quando sorrideva sto al buio disse quietamente in termini di poker starò al gioco dove è il posto vicino a water street ci andremo in taxi facci strada amico uscimmo dalla camera ed entrammo nell'ascensore quattro amici che attraversano un vestibolo adorno di corna di cervo di uccelli imbalsamati di collage di petali di fiori messi in cornice il taxi percorse capital way attraverso la piazza superò una casa albergo rossa troppo grande per quella piccola città salvo quando si verificava un forte afflusso di forestieri per le grandi sedute dei politicanti vidi in distanza il campidoglio e le altre cancellate del palazzo del governatore due file di querce fiancheggiavano la strada si intravedevano grandi ville al di là dei muri dei giardini il taxi girò nella strada che andava verso l'estremità del sound la casa sorgeva in mezzo a uno spiazzo esiguo limitato da alti alberi poco lontano dietro gli alberi scorgeva dell'acqua la casa aveva un portichetto sul davanti un piccolo prato che la fronteggiava era invaso dalle erbacce e dalla sterpaglia al termine del malandato viale d'ingresso era una tettoia che serviva da rimessa a una vecchia automobile da turismo scendemmo e pagai l'autista tutti seguimmo con lo sguardo il taxi che si allontanava finché scomparve allora sunset parlò sto al piano superiore sotto abita un maestro di scuola ma ora non è in casa saliamo attraversammo il prato fino al portichetto sunset aprì la porta e additandoci una rampa di stretti scalini disse prima le signore avanti bellezza nessuno chiude la porta a chiave in questa città la ragazza gli dette un'occhiata gelida e passandogli davanti incominciò a salire le scale la seguì mother era dietro di me sunset salì per ultimo la camera che occupava quasi completamente il secondo piano era piuttosto buia per via degli alberi che circondavano la casa aveva una finestra lucernario un divano che serviva da letto era posto sotto la parte spiovente del tetto l'arredamento era completato da sedie di vimini una piccola radio e da una stufetta rotonda messa nel bel mezzo della stanza sunset andò nella piccola cucina e ne uscì con una bottiglia e alcuni bicchieri verso da bere sollevò il suo bicchiere e lasciò gli altri sul tavolo ognuno di noi prese un bicchiere si sedette sunset scolò il bicchiere in un colpo solo si chinò per deporlo sul pavimento e quando si raddrizzò vidi che la sua mano destra stringeva una colt nel freddo silenzio che seguì all'interno improvviso sentì madder inghiottire saliva la bocca della ragazza tremò quasi stesse per ridere lei si sporse in avanti tenendo con la mano sinistra il bicchiere appoggiato alla borsa le labbra di sunset si strinsero fino a diventare una linea dritta e sottile disse lentamente quasi sillabando brucia piedi soltanto non è così voi sareste quelli che hanno bruciato i piedi al mio povero socio vero sembrava che a madder mancasse l'aria cominciò ad agitare le sue grosse mani e subito la colt si mosse nella sua direzione allora lui posò le mani sulle ginocchia stringendole con forza sunset proseguì stancamente bruciargli i piedi per farlo cantare e poi andare spudoratamente in casa ad uno dei suoi amici non lo potete considerare un regalo natalizio questo madder lo interruppe parlando a scatti cosa farete ora la ragazza sorrise impercettibilmente ma non disse nulla sunset strinse i denti per voi prenderò della corda grossa corda bagnata con grossi nodi poi con il mio amico andrò ad acchiappare lucciole perle per voi è quando saremo tornati qui si fermò di colpo e portò la mano sinistra alla gola era un gesto significativo è un'idea brillante non ti pare mi chiese sì risposi ma non stiamoci a far sopra un madrigale dov'è la corda e in quell'armadio mi indico un angolo con un cenno della testa mi mossi in quella direzione improvvisamente madder emise una specie di gemito lamentoso rovesciò gli occhi verso l'alto cadde dalla sedia e piombò pesantemente a terra come morto questo contrario sunset la cosa l'aveva preso alla sprovvista punto la pistola contro la schiena di madder carol allora fece scivolare la mano sotto la borsa che si mosse appena la pistola che sunset credeva chiusa nella borsetta era ora in quella mano fu un attimo un breve lampo e cheggio un colpo sunset tossì la sua colt sparò ed una scheggia di legno si staccò dalla sedia su cui madder era stato seduto sunset aveva ora lasciato cadere la pistola teneva il capo reclinato sul petto e lo sguardo rivolto in alto verso il soffitto le sue gambe piegate scivolarono in avanti e i tacchi delle scarpe fregarono contro il pavimento con un sinistro gracidio restò così afflosciato sulla sedia con il capo appoggiato al petto gli occhi sbarrati fissi verso l'altro morto sferrai un calcio alla sedia di carol donovan e lei cadde su un fianco in un turbinio di biancheria di seta il cappello le era scivolato sulla faccia strillò le calpestai la mano poi mi scostai bruscamente con un colpo del piede spinsi la sua pistola dalla parte opposta dell'attico lo stesso feci con la sua borsa in cui era l'altra pistola urlò qualcosa contro di me tirati su ringhiai si sollevò lentamente retrocesse mordendosi le labbra con un lampo selvaggio negli occhi simile a una furia ribelle costretta con le spalle al muro gli occhi le brillavano vividi nella faccia livida mi assicurai con un'occhiata che madder giaccessi ancora sul pavimento e mi avvicinai ad una porta chiusa era la stanza da bagno spostai la chiave all'esterno e feci segno alla ragazza di entrare attraverso la camera camminando rigidamente mi passò accanto quasi sfiorandomi stammi a sentire un attimo mi disse io la spinsi oltre la porta che richiusi in fretta girando poi la chiave nella serratura per me poteva benissimo anche saltare dalla finestra se le andava di farlo prima dalla strada avevo visto a quale altezza si trovasse mi avvicinai a sunset lo frugai nelle tasche e presi il mazzo di chiave che trovai era quello che cercavo c'erano tra le altre anche chiavi dell'automobile guardai di nuovo madder e notai che le sue dita erano bianche come la neve scesi le scale e mi trovai sotto il portichetto raggiunsi la tettoia e salì sulla vecchia automobile da turismo avviai il motore usando una delle vecchie chiavi tolte a sunset la macchina ebbe un sussulto prima di partire attraversai lo sporco vialetto d'entrata non vidi né sentii nulla a muoversi all'interno della casa gli alti pini che la circondavano alzavano i loro rami svogliatamente e un freddo timido sole riusciva qualche volta a rischiararne la facciata quando i rami stormivano guidavo il più velocemente possibile percorsi capitol way superai la piazza lo snocke il mio hotel attraversai il ponte andai in direzione dell'oceano pacifico verso westport dopo un'ora di corsa veloce attraverso la zona di sboscata interrotta solo da tre soste per l'acqua e per via di una guarnizione che perdeva giunsi in prossimità dell'oceano potevo sentire lo sciabordio della risacca la strada bianca e larga con una striscia gialla nel centro girava intorno al fianco della collina un gruppo di costruzioni si stagliava netto contro lo sfondo dell'oceano luccicante a un certo punto la strada presentava una biforcazione un indicatore stradale posto all'inizio della deviazione di sinistra segnalava che westport era a 19 miglia di distanza questa strada non procedeva in direzione degli edifici che avevo visto ma attraversava un ponte arrugginito e penetrava poi in una distesa di alberi di mele contorti dal vento ancora 20 minuti di marcia e quindi entravo in westport una penisoletta sabbiosa limitata da una collina disseminata di case di legno all'estremità della penisola era un molo lungo e stretto e sull'acqua galleggiavano barche con le vele semi ammainate che sbattevano contro l'albero di là dalle barche un canale ed una lunga linea irregolare formata dall'acqua sfumeggiante sopra un banco di sabbia oltre il banco di sabbia il pacifico andava oddeggiando verso il giappone questo era l'ultimo vamposto della costa il punto più occidentale degli stati uniti per un ex galeotto che si era impadronito di due perle grosse come patate novelle poteva essere il rifugio ideale purché non avesse troppi nemici salì fino ad un padiglione che portava l'insegna colazioni pranzi tè un uomo di bassa statura con una faccia da coniglio coperta dai felidi stava agitando un rastrello da giardino davanti a due polli neri che però non sembravano impressionati si girò quando la macchina fu ferma superai il cancelletto indicando l'insegna chiesi c'è qualcosa di pronto lui lasciò cadere il rastrello si pulì le mani nei pantaloni mi sbirciò e mi confidò malignamente mia moglie ha voluto che esponessimo quell'insegna in realtà abbiamo solo uovo al prosciutto proprio quello che voglio disse io entrammo in casa c'erano tre tavole ricoperte di tela cerata grossi disegni alle pareti erano appesi alcune stampe e sulla mensola del camino era posato una bottiglia che conteneva una nave da guerra sedetti il mio ospite oltrepassò una porta a molla e qualcuno gli gridò qualcosa udì lo sfriggolio dell'olio tumultuante nella padella proveniente dalla cucina lui tornò si chinò sopra la mia spalla e mise giù sulla tela cerata le posate di un tovagliolo di carta troppo presto per un brand di mele non è vero sussurrò gli spiegai quanto avesse torto se ne andò via di nuovo e tornò con i bicchieri ed un litro di liquido dal colore dell'ambra si sedette accanto a me e riempì i bicchieri in cucina una voce baritonale che cantava clò sovrastava ogni altro rumore facemmo tintinare i bicchieri e brindammo aspettai che la solita piacevole sensazione di calore mi pervadesse le membra siete forestiero non è vero chiese lo metto risposi affermativamente di seattle forse c'è roba buona da quelle parti di seattle sì qui non vengono molti forestieri disse con lo sguardo fisso sul mio orecchio sinistro non siamo su alcuna via di comunicazione con le altre città un tempo prima dell'abolizione del proibizionismo tacque per un attimo espostò il suo acuto sguardo di lince nell'altro mio orecchio a prima dell'abolizione del proibizionismo ripete io e bevi con l'aria di chi la s'allunga l'uomo si protese verso di me tanto che io avvertivo il suo respiro sulla mia faccia dio cristo si poteva caricare qualsiasi barca dal molo e la roba arrivava sotto strati di ostriche e granchi diavolo westport ne era piena le casse di scotch venivano date ai bambini per giocarci voi dovete sapere signore che non c'era macchina in questa città che stesse in garage questo solo perché i garage erano pieni fino al tetto di alcol canadese dio cristo avevamo una lancia guardacoste che sorvegliava lo scarico delle barche un giorno per settimana il venerdì sempre lo stesso giorno nel dire questo ammicco espirai il fumo della sigaretta in cucina all'olio continuava a friggere la voce baritonale cantava ancora clou ma dio cristo non sarete per caso un commerciante di liquori mi chiese diavolo no davvero voglio solo comprare pesci rossi oh bene fece con aria scontrosa riempì una seconda volta i bicchieri di brandy buono esclamai questo lo pago io e ne porterò via con me altre due bottiglie si schiarì in volto come avete detto di chiamarvi carmadi voi pensate che mi stia burlando di voi a proposito di pesci rossi non è vero non sto affatto scherzando dio cristo non mi sembra si possa guadagnare molto commerciando in pesci rossi prima avevate detto che si trattava di buona merce dopo esperimenti e studi accurati si possono allevare tipi particolari di pesci molto belli delle specie nuove ogni volta offrono buone possibilità di guadagno a proposito so che da queste parti vive un vecchio che ne ha una vera collezione forse potrei comprarne qualcuno versai di nuovo del brandy un donnone baffuto aprì la porta con una pedata ed urlò vieni a prendere le uova al prosciutto il mio ospite corse dritto in cucina e tornò con il cibo mangiai mentre lui mi osservava attentamente a un tratto batte il piede per terra con forza il vecchio wallace ecco chi cercate ridacchiò soddisfatto siete venuto a vedere il vecchio wallace noi non lo conosciamo molto bene non ama avere rapporti con i vicini si girò sulla sedia e mi indicò con il dito una collina abbastanza lontana che si scorgeva attraverso le sottili tende della finestra sulla cima vidi una casa bianca e gialla che brillava al sole ecco dove vive wallace pesci rossi a milioni di pesci rossi lui potete ringraziarmi offrendomi un altro sorso di brandy se lo volete la nostra conversazione si concluse così mandai giù le uova al prosciutto ed acquistai altro brandy di mele a un dollaro il litro strenzi la mano all'ometto e tornai all'automobile non c'era alcuna fretta a quell'ora rush madder aveva certo riacquistato i sensi e liberato la ragazza ma non sapevano dove raggiungermi sunset non aveva nominato westport in loro presenza e loro ignoravano il nascondiglio di saip quando avevano raggiunto olimpia in caso contrario infatti vi si sarebbero recati direttamente inoltre era improbabile che a olimpia fossero restati a origliare dietro la porta della mia camera d'albergo e in questo caso infatti si sarebbero accorti che non ero solo e entrando si sarebbero comportati diversamente certo madder e carol donovan non sapevano nulla a proposito di westport io quindi avevo un'infinità di tempo a mia disposizione mi diressi verso il molo era una costruzione solida c'erano bettole chioschi per la vendita del pesce una sala da biliardo un portichetto pieno di distributori automatici i pesci esca guizzavano contorcendosi in specie di nasse che galeggiavano sull'acqua accanto ai pali di sostegno parecchi fannulloni guardavano con aria minacciosa chiunque osasse mischiarsi nelle loro faccende nelle vicinanze non si notava nessun rappresentante della legge guidai su per la collina fino alla casa bianca e gialla sorgeva solitaria lontana da altre abitazioni aveva fiori sul davanti un praticello ben curato e un giardinetto pieno di rocce e di piante alpine c'era una donna in giardino con uno spruzzatore in mano indossava un abito stampato a disegni bianchi e neri mi fermai e scesi dalla macchina abita qui il signor wallace chiesi togliendomi il cappello la donna aveva una bella faccia tranquilla e un'aria sicura di sé e annui volete vederlo la sua voce era ferma ed aveva un ottimo accento non sembrava la moglie di un ladro le dissi come mi chiamavo e che mi interessavo di pesci deposi lo spruzzatore ed entrò in casa le api ronzavano intorno alla mia testa grosse api pelose che non temevano il freddo vento proveniente dal mare sentivo ancora lo sciabordio della risacca era una musica lontana il sole del nord mi sembrava scialbo e senza calore la donna riapparve mi disse tenendo la porta aperta e di sopra salite le scale prego passai accanto a due rustiche sedie a dondolo ed entrai nella casa dell'uomo che aveva rubato le perle linder la stanza era ampia quello che mi colpì subito entrando furono tutti quei pesci su robusti scaffali erano due file di capaci recipienti di vetro di forma allungata con bordi metallici sopra ad alcuni era un apposito impianto di illuminazione altri erano illuminati dall'interno attraverso il vetro si poteva intravedere seminascosta dalle alghe una ricca vegetazione acquatica vi era una luce vivida verdognola all'interno dei serbatoi e in quel chiarore spettrale si muovevano pesci di tutti i colori bene erano di lunghi e sottili simili a frecce d'oro alcuni provenienti dai mari del giappone avevano fantastiche lunghissime code altri erano trasparenti come vetro colorato altri ancora non erano più lunghi di mezzo dito ne notai alcuni graziosamente immaculati grossi pesci cinesi che avevano occhi a telescopio teste come quelle delle rane pinne che non usavano si dondolavano buffamente nell'acqua verde simili a grossi signori che vanno a colazione la luce pioveva da un grande lucernario sotto accanto a un tavolo di legno era un uomo alto e magro teneva nella mano sinistra un pesce rosso che si contorceva disperatamente e nella mano destra una lametta da barba con un lato ricoperto di cerotto l'uomo sollevò la testa aveva folte sopracciglie grigie i suoi occhi infossati nelle orbite erano opachi e spenti mi avvicinai per guardare da vicino il pesce che teneva in mano è ammalato chiesi specificò è affetto da fungus bianco posò il pesce sul tavolo e ne stese con cautela la pinna dorsale appariva ruvida e frastagliata ricoperta sull'orlo da una specie di muschio bianco fungus bianco ripete lui non è poi così grave come si crede ora lo rimetto in sesto ma cosa posso fare per voi signore giocherillai con la sigaretta e gli sorrisi sono come gli uomini dissi i pesci voglio dire hanno un sacco di guai teneva saldamente il pesce che era sul tavolo tagliò la parte malata della pinna distese la coda e tagliò anche quella il pesce non si agitava più ora alcuni si possono curare continuai ma altri no voi per esempio non potete curare una malattia della vescica natatoria sollevò la testa e mi guardò ad ogni modo quel che gli ho fatto non gli procura alcun dolore un pesce lo si può ammazzare ma non gli si può far male come ad un uomo depose la lametta ed intinse un batuffolo di cotone in un liquido purpureo che passò sulle parti che avevano subito l'amputazione quindi le cosparse di vasellina bianca poi lasciò cadere il pesce in un piccolo recipiente di vetro il pesce cominciò subito a nuotare tranquillo come se nulla fosse successo l'uomo si pulì le mani si sedette sull'orlo di una panca e mi guardò con i suoi occhi spenti doveva essere stato un bell'uomo ai suoi tempi vi interessate di pesci mi chiese parlava lentamente sussurrando come se temesse di farsi sentire la sua voce mi fece pensare al cortile del carcere alla cella buia i lunghi silenzi rotti raramente da frettolosi bisbigli scossi il capo no non in modo particolare è stata solo una scusa per vedervi vengo da molto lontano signor saip si umettò le labbra e continuò a fissarmi quando parlò di nuovo la sua voce era debole e stanca mi chiamo wallace signore feci un anello di fumo e tentai di infilarvi un dito per quel che ne so io il vostro nome saip si piegò in avanti e lasciò cadere le mani fra le ossute ginocchia e le strinze tra le gambe erano mani grosse e nodose che dovevano avere lavorato duramente quando mi guardò i suoi occhi erano divenuti improvvisamente freddi sotto le sopracciglia ersute la voce era ancora la stessa debole e stanca è da un anno che non chiacchiero con un poliziotto come mai siete qui provate a indovinarlo risposi statemi a sentire sbirro ho una casa tranquilla qui nessuno ha il diritto di darmi noia sono stato graziato dalla casa bianca allevo i miei pesci e non devo nulla a nessuno ho pagato per quello che ho fatto mia moglie abbastanza denaro per tutti e due voglio una cosa sola essere lasciato in pace capito smise di parlare scosse la testa non potete farmi nulla nessuno può più farmi nulla stetti zitto sorrisi e lo guardai nessuno può farmi nulla ripete sono stato graziato dal presidente voglio essere lasciato in pace scossi il capo e continuai a sorridere non starete in pace finché non avrete vuotato il sacco statemi a sentire disse piano voi senza dubbio siete nuovo della faccenda ma io capite io è vent'anni che ci sono immischiato gente abilissima si è interessata a questo caso gente che ora sa che io non ho nulla capite nulla che non mi appartenga qualcuno altro avrà preso quanto cercate l'impiegato postale senza alcun dubbio osservai statemi a sentire continuò lui so che non si fermeranno che non cesseranno di cercare finché ci sarà in vita qualcuno che ricorda quanto è successo so che continueranno a mandare gente di tanto in tanto per tentare di scoprire qualcosa di nuovo pazienza lo devo sopportare ora cosa posso fare per rispedirvi indietro scossi il capo ed osservai i pesci nuotare tranquilli mi sentivo stanco ero turbato dal silenzio che avvolgeva la casa la mia mente annebbiata vide un treno fuggire nell'oscurità un uomo celato nel vagone postale un lampo impiegato morto disteso al suolo i pesci e dell'acqua un uomo che aveva tenuto un segreto per 19 anni o meglio che aveva quasi tenuto un segreto avete commesso un errore dessi lentamente non vi rammentate di un certo piler mardo sollevò il capo frugava nella sua mente pareva che il nome non gli dicesse assolutamente nulla un tipo che avete conosciuto quando eravate nel carcere di leeward un ometto che era dentro per truffa ricordate ora sì ricordo rispose gli avete confidato di essere in possesso delle perle mi accorsi che non mi credeva replicò stancamente mi sarò preso gioco di lui può darsi lui però non era di questo perere qualche tempo fa è venuto da queste parti con un tale che si faceva chiamare sunset piler vi ha riconosciuto e ha pensato di fare fruttare quello che sapeva ma era cocainomane e parlava nel sonno così una ragazza ha saputo la storia e poi sono entrati in scena un'altra ragazza e un avvocato da strapazzo gli hanno bruciato le piante dei piedi e piler è morto saip mi fissava senza battere ciglio le rughe che aveva intorno alla bocca erano divenute più profonde proseguì non si sa quello che piler abbia detto prima di morire la ragazza e l'avvocato sono a olimpia ora anche sunset è là morto però lo hanno fatto fuori quei due ignoro se sappiano dove vi trovate ad ogni modo un giorno l'altro lo scopriranno oppure altra gente della stessa risma ne verrà a conoscenza voi potrete resistere agli attacchi della polizia quelli della compagnia di assicurazione se le perle non saranno trovate se non tenterete di venderle non un muscolo si muoveva sulla faccia di saip le sue grosse mani nodose strette tra le ginocchia erano perfettamente immobili i suoi occhi spenti mi guardavano ma voi continuai voi non potrete resistere a quei delinquenti non deporranno mai le armi mai saranno sempre in due o tre avranno mezzi tempo denaro in abbondanza scopriranno in un modo nell'altro quanto gli interessa prenderanno vostra moglie oppure vi trascineranno nel bosco e vi conceranno per le feste e voi dovrete cedere quello che vi propongo io invece è onesto e conveniente che razza di tipo siete voi non sono più certo che facciate parte della polizia sono della compagnia assicurativa ecco quello che vi propongo il premio è di 25.000 dollari in tutto 5.000 vanno alla ragazza che mi passò la notizia ha agito onestamente e questo le dà diritto alla sua parte 10.000 a me che ho fatto tutto il lavoro e che non è stato affatto facile vi assicuro 10.000 a voi avrete da me la vostra parte agendo senza intermediari non potreste avere neanche un dollaro che ve ne pare mi pare ben pensata mi rispose c'è un guaio però io non ho le perle sbirro aggrottai le sopracciglia fu tutta la mia reazione non sapevo più cosa fare mi scostai dalla parete lasciai cadere il mozzicone sul pavimento di legno e lo calpestai mi girai per andarmene e lui si alzò restate ancora un attimo mormorò gravemente vi proverò che quel che ho detto è vero usci dalla stanza io immobile guardavo i pesci fissamente mi morsicai il labbro udì lontananza il rumore di un'automobile nella camera accanto un cassetto venne aperto e subito richiuso saip riapparve nel pugno sinistro stringeva una colt calibro 45 era molto lunga quasi come il suo avambraccio puntando me la contro urlò ecco le mie perle sei perle di piombo con le quali posso colpire una mosca distante 50 metri tu non sei un poliziotto alzati ora in fila vada quelle teste calde dei tuoi amici e di loro che sono pronto a fargli partire tutti i denti con un colpo solo nei giorni feriali di domenica posso anche raddoppiare la dose non mi spostai di un centimetro i suoi occhi avevano uno sguardo folle non osavo muovermi e dissi piano posso provarvi che rappresento veramente la compagnia di assicurazioni voi siete un ex galeotto e il possedere quella pistola costituisce già un grave reato mettete la via e parlate sensatamente sentì una macchina arrestarsi davanti alla casa con uno stridio di freni passi voce concitate un'esclamazione di sorpresa saip si pose tra il tavolo e uno dei grossi acquari soghignava si sentiva con le spalle al muro parlò lentamente strascicando le parole i tuoi amici avranno una bella accoglienza butta la tua pistola sul pavimento finché hai ancora tempo e fiato non mi mossi guardavo fissamente le sue sopracciglia ersute guardavo fissamente i suoi occhi sapevo con sicurezza che se mi fossi mosso anche solo per eseguire i suoi ordini mi avrebbe sparato i passi si fecero sempre più vicini erano pesanti strascicati e mi preannunciavano una battaglia tre persone entrarono la signora saip entrò per prima camminava con le gambe rigide gli occhi dallo sguardo vitreo le braccia piegate le maniche annaspavano come per afferrare qualcosa che in realtà non esisteva c'era una piccola pistola puntata contro la sua schiena la piccola 32 di carol donovan che carol donovan stringeva nella sua piccola mano crudele dietro di loro veniva madder era ubriaco eccitato da quanto aveva bevuto paonazzo infuriato mi puntò contro la sua smitten wesson e mi guardò di traverso carol donovan spinse da un lato la moglie di saip che incespicò e cadde sulle ginocchia con gli occhi fissi come vuoti saip lanciò un'occhiata carol era piuttosto stupito certo non si aspettava una ragazza giovane e graziosa non gli era capitato spesso di avere a che fare con tipi del genere il vederla lo calmò se al posto della ragazza fosse entrato un uomo sarebbe certamente già stato ridotto in briciole la ragazza vestita di scuro dalla faccia pallida lo squadrò freddamente gli intimo bene nonno getta a terra il tuo sputafuoco e non farla lunga saip si chinò lentamente senza staccare gli occhi da carol e depose la sua grossa colto sul pavimento dalle un calcio nonno saip l'allontano da sé con il piede la pistola scivolò sulle nude assi di legno verso il centro della stanza così si fa ma tu salemme sorveglialo rush mentre io disarmo lo sbirro le due pistole mutarono direzione ora gli occhi grigi di saip guardavano verso di me mother si avvicinò a saip e puntò la pistola contro il suo petto la ragazza sorrise non era un sorriso piacevole il suo credi di essere furbo tu non è vero non ti raccapezzi non capisci come abbiamo fatto ad arrivare qui hai fatto male a non perquisire il tuo amico smilzo aveva una mappa nascosta in una scarpa a me non era necessaria risposi calmo e sorrisi tentavo di distrarla con il più attraente dei miei sorrisi perché avevo visto che la moglie di saip si stava muovendo sulle ginocchia ed ogni suo movimento la portava più vicino alla colta di saip sei mutato ora fai persino sorrisi sdolcinati solleva le zampe mentre ti alleggerisco dalla tua pistola su caro era soltanto una ragazza lei non più alta di un metro e sessanta centimetri e non più pesante di 60 chili una ragazzetta insomma la mia statura è di un metro e 87 con un peso di 90 chili alzai le mani e la colpì alla mascella fu una pazzia lo so ma fu più forte di me non potevo sopportare più oltre l'atto dono van madder le pistole dono van madder il modo di parlare dono van madder la colpì alla mascella il colpo la fece retrocedere quasi di un metro e la sua pistola sparò una pallottola mi prese di striscio bruciacchiando la stoffa del mio abito carol incominciò a cadere cadde lentamente come in un film a rallentatore cadeva c'era qualcosa di inverosimile in tutta la scena la signora saep si impadronì della colta e le sparò nella schiena madder fece per voltarsi ma nell'istante in cui si girò saep gli fu sopra madder fece un balzo indietro urlò e puntò di nuovo la pistola contro saep saep si fermò non sembrava impressionato aveva un ampio sorriso folle sulla faccia sparuta il colpo di pistola spinse la ragazza in avanti come quando un impetuoso corrente d'aria fa sbattere una porta un abito blu che svolazzava qualcosa che mi cadde addosso la sua testa vidi per un attimo la sua faccia quando rimbalzò indietro una strana faccia che non avevo mai visto prima poi fu solo una piccola cosa raggomitolata ai miei piedi fredda e senza vita immersa nel sangue la donna alta invece era dietro di lei e stringeva ancora con tutte e due le mani la colt fumante madder sparò due colpi a saep saep cadde in avanti ancora con quello strano sogginio sulle labbra e urtò contro l'estremità del tavolo il liquido rosso che lui aveva usato per curare il pesce malato gli si rovesciò addosso madder gli sparò un'altra volta mentre cadeva a terra io estrassi la mia lager e sparai a madder presi di mira la parte posteriore del ginocchio le ferite in quella parte del corpo sono dolorosissime ma non mortali madder cadde come se avesse inciampato in un filo nascosto gli fui sopra prima ancora che incominciasse a lamentarsi allontanai a calci le pistole che giacevano sul pavimento e mi avvicinai alla signora saep le tolsi di mano la grossa colt per un momento il silenzio regnò nella stanza spirali di fumo di un grigio velato salivano lentamente verso il lucernario pallide nella luce del sole pomeridiano sentivo il rumore delle onde lontano e vicinissimo una specie di sibilo era saep che tentava di dire qualcosa sua moglie sempre sulle ginocchia si trascinò vicino a lui e gli si accucciò accanto c'era sangue sulla bocca di saep e delle bollicine batté le palpebre tentando di diradare la nebbia che appannava i suoi occhi le sorrise in un sussurro disse i pesci cinesi etti i pesci cinesi il suo collo si rilassò il sorriso abbandonò il suo volto la sua testa cadde da una parte sul pavimento nudo la moglie lo toccò quindi si rialzò e mi guardò con calma con gli occhi asciutti la sua voce era bassa volete aiutarmi a trasportarlo sul suo letto non voglio che stia qui vicino a questa gente risposi certo cosa ha detto prima non so qualcosa di incomprensibile a proposito dei suoi pesci credo presi saep per le spalle e lei lo sollevò dai piedi lo portammo in camera sua e lo deponemmo sul letto lei gli incrociò le mani sul petto e gli chiuse gli occhi si avvicinò alla finestra e tirò le tende grazie di avermi aiutato mi disse senza guardarmi il telefono è di sotto si sedette su di una sedia a fianco del letto ed appoggiò la testa sulla coperta accanto al braccio di saep usci dalla camera e chiusi la porta la gamba di madder sanguinava un poco ma non pericolosamente mentre gli fasciavo strettamente il ginocchio con un fazzoletto mi guardava con occhi atterriti doveva avere un tendine rotto e forse la rotola scheggiata avrebbe zoppicato un poco quando sarebbero venuti a prenderlo per impiccarlo scesi le scale e induggiai sotto il portichello ad osservare le due macchine ferme davanti alla casa guardai verso il molo nessuno poteva avere indovinato da dove erano venuti gli spari a meno che non fosse passato davanti alla casa ma probabilmente nessuno vi aveva fatto caso quella zona era piena di boschi e colpi di fucile potevano risuonare spesso ritornai in casa e guardai il telefono a mano bella nella stanza di soggiorno ma non lo toccai ancora avevo qualcosa dentro che non mi lasciava tranquillo accesi una sigaretta e guardai dalla finestra una voce debolissima sussurrava nel mio orecchio i pesci cinesi etti i pesci cinesi sali di sopra e tornai la stanza dei pesci madder si lamentava ora gemiti affannosi gli uscivano dalla bocca ma perché preoccuparsi per un serviziatore come lui la ragazza era morta i pesci nuotavano lentamente e tranquillamente nell'acqua verdognola neppure loro vadavano a madder il recipiente che conteneva i pesci cinesi stava in un angolo era uno dei più grossi aveva una capacità di almeno 40 litri dentro c'erano quattro pesci lunghi circa 10 centimetri di colore scuro due di essi aspiravano ossigeno con la bocca fuori dall'acqua gli altri due invece oscillavano pigramente sul fondo i loro corpi erano arrotondati avevano una lunga coda allargata e alte pinne dorsali i loro occhi a telescopio così sporgenti li facevano assomigliare a delle ranee quando si volgevano nella vostra direzione li guardai muoversi buffamente fra le verdi piante acquatiche vidi una coppia di rosse lumache di stagno che si sporgevano dai loro gusci i due pesci sul fondo mi sembravano più grossi e lenti degli altri due non ne comprendevo la ragione posta tra due serbatoi vidi una specie di reticella fatta di corda intrecciata e con un lungo manico la presi e la immersi nell'acqua verdognola pescai uno dei pesci grossi e lo tirai fuori lo rivoltai e osservai attentamente il suo ventre argento e rigonfio notai qualcosa che sembrava una sutura la tastai e senti qualcosa di duro all'interno pescai anche l'altro pesce la stessa sutura la stessa sporgenza dura e rotonda esaminai uno dei due pesci che stavano a galla con il capo fuori dall'acqua e non trovai la sutura né il rigonfiamento era anche molto difficile catturarlo lo rimisi in acqua mi interessavano gli altri due io amo i pesci quanto il mio prossimo ma gli affari sono una cosa e delitti un'altra mi tolsi la giacca mi arrotolai le maniche e presi il rasoio che stava sul tavolo fu una cosa complicata ci misi cinque minuti circa alla fine le ebbi sul palmo della mia mano avevano un diametro di un centimetro e mezzo erano pesanti perfettamente rotonde bianche come il latte luccicanti di quella luce interna che nessun altro gioiello ha le perle linder le lavai le misi in un fazzoletto tirai giù le maniche indossai la giacca guardai madder i suoi occhi atterriti la sua faccia sudata non mi importava nulla di lui era un assassino un torturatore uscii dalla stanza la porta della camera da letto era ancora chiusa scesi nella stanza di soggiorno e girai la manovella del telefono casa wallace di westport è successo un incidente abbiamo bisogno di un medico e della polizia la ragazza chiese cercherò di trovare un medico signor wallace per quanto riguarda la polizia c'è lo sceriffo di westport può andare penso di sì risposi la ringraziai e deposi il ricevitore un telefono di campagna dopo tutto presentava i suoi vantaggi accesi un'altra sigaretta e mi sedetti su una delle due rustiche sedie ad ondolo che stavano sotto il portico la signora saipa parve sulla soglia e scese i gradini restò per un attimo immobile a contemplare il panorama quindi si sedette sull'altra sedia accanto a me mi guardava fissamente senza piangere voi siete un detective suppongo chiese piano con diffidenza sì rappresento la compagnia che assicurò le perle e l'inder distolse gli occhi da me e fissando il vuoto disse credevo che sarebbe stato al sicuro qui che nessuno sarebbe venuto a infastidirlo che questo posto sarebbe stato un rifugio tranquillo non avrebbe dovuto conservare le perle girò il capo di scatto questa volta sembrava sorpresa immediatamente dopo invece mi parve spaventata misi la mano in tasca e tirai fuori il fazzoletto ripiegato e tenendolo sul palmo della mano lo aprì erano lì sulla tela bianca 200.000 dollari la causa di tanti omicidi avrebbe potuto avere il suo rifugio dissi nessuno voleva toglierglielo ma non gli bastava il suo sguardo induggiò sulle perle poi le sue labbra tremarono la sua voce divenne rauca povero wallie disse così le avete trovate siete in gamba davvero ha ammazzato dozzine di pesci prima di riuscirci mi guardò in faccia lessi la meraviglia nei suoi occhi continuò io ho sempre odiato quest'idea vi ricordate la vecchia teoria della bibbia a proposito del capo espiatorio scossi il capo no non ricordavo l'animale su cui ricadevano i peccati commessi dagli uomini e che poi finì nel deserto i pesci erano il suo capo espiatorio mi sorrise non le ricambia il sorriso disse ancora un poco sorridente vedete lui un tempo ha avuto le perle quelle vere credeva che la sofferenza le avrebbe fatte divenire sue ma non avrebbe avuto alcun vantaggio da esse anche se le avesse ritrovate doveva essere andato perduto qualche segno di riferimento mentre lui era in prigione non riuscì a trovare il punto dell'eidao in cui le aveva sepolte sentì qualcosa di molto simile a un dito di ghiaccio andare su e giù per la mia spina dorsale aprì la bocca con una voce che quasi non riconoscevo e feci tocco una delle perle con un dito avevo ancora la mano allargata come se la mia mano fosse uno scaffale inchiodato alla parete così lui prese queste disse a seattle sono cave riempite di cera bianca non mi ricordo come chiamino questo procedimento sembrano molto belle naturalmente io non ho mai visto delle perle di un certo valore ma perché lo ha fatto mormorai ma non capite erano il suo peccato e lui doveva nasconderle nella solitudine in questa solitudine perciò le ha nascoste nei pesci e sapete si protese di nuovo verso di me e i suoi occhi brillavano parlo molto lentamente molto seriamente qualche volta mi è sembrato specialmente in questi ultimi tempi che lui le credesse vere non vi dice niente questo abbassai gli occhi sulle perle la mia mano e il fazzoletto si chiusero lentamente sopra di esse dissi sono un uomo semplice signora saip l'idea del capro espiatorio è troppo difficile per me direi che stava solo tentando di ingannare un poco se stesso come fa un uomo che abbia subito un grave scacco sorrise di nuovo era bella quando sorrideva poi scrollò le spalle naturalmente voi vedete la cosa a modo vostro ma io e allargò le braccia ormai non ha più alcuna importanza posso tenerle per ricordo per ricordo sì le perle fasulle non ne farete sicuramente nulla voi mi alzai una forda a due posti scoperta si arrampicava su per la collina dentro c'era un uomo con una grossa stella sul panciotto il motore faceva un rumore simile al chiacchierio di una vecchia scimmia calva dello zoo la signora saip era in piedi accanto a me con la mano aperta e gli occhi imploranti all'improvviso soghignai ferocemente avete recitato con arte la vostra parte per un poco disse tanto che quasi ci cascavo mi sentivo correre i brividi per la schiena ma voi mi avete aiutato quel fasulle vi ha tradito non era adatto un tipo come voi inoltre avete usato la colta con destrezza e spietatamente le ultime parole di saip soprattutto mi servirono etti i pesci cinesi se le perle fossero state false non se ne sarebbe preoccupato e non era così stupido da continuare a ingannare se stesso per tanto tempo per un attimo la sua faccia non mutò espressione poi vidi qualcosa di orribile nei suoi occhi sporse le labbra e mi sputò in faccia rientrò in casa sbattendo la porta mi sembrava di essermi già ficcato in tasca ai 25 mila dollari 12 mila per me e 12 mila perché ti um mi sembrava di vedere la gioia nei suoi occhi quando le avrei portato l'assegno e quando a lei lo avrebbe portato in banca in attesa che john uscisse dal carcere di quentin la ford si era arrestata accanto alle altre macchine l'uomo che era al volante sputò per terra tirò il freno a mano e balzò fuori senza aprire la portiera era un tipo robusto con le maniche corte discesi gli scalini per andargli incontro